Sono testimoni unici e preziosissimi di una tradizione artistica e devozionale molto fervida anche in Liguria tra XV e XVII secolo, ma agli straordinari teri della passione al Museo diocesano di Genova erano persino finiti all'asta prima che il ministero dei beni e attività culturali li acquistasse nel 2001. È un unicum dell'architettura però Genova ha rischiato di perderli. Beh hanno avuto una storia piuttosto complessa perché questi teli si trovavano nella chiesa del Boschetto, la chiesa benedettina, con le suppressioni napoleoniche passano mani private e siamo già nell'Ottocento. Poi vengono prestati dai proprietari ad alcune chiese genovesi sempre per creare sepolcri della settimana santa in modo un po' più provvisorio rispetto all'allestimento originario. Poi passeranno sul mercato antiquario ma siamo ormai negli anni 80 del secolo scorso, vengono anche presentati a un'asta. Alla seconda tornata d'asta acquistati finalmente arriva, erano ormai stati vincolati dallo Stato, arriva la prelazione dello Stato che decide secondo me giustamente di esporli là dove potevano essere ben esposti e fruiti, cioè nel Museo di Cesano di Genova. Realizzati in origine per l'Abbazia del Boschetto in Val Polcevera, i teli della Passione affascinano studiosi e visitatori anche per i misteri che circondano questi apparati della settimana santa. I misteri sono tanti, uno dei misteri è quello dell'esatta sistemazione originaria di questo complesso perché sul reto dei teli ci sono dei legacci che fanno pensare che potessero essere sistemati intorno a uno scheletro di legno, creando una specie di padiglione, una specie di casetta all'interno della chiesa. D'altronde la scritta che compare proprio qui sopra, che è una lamentazione di Geremia, o tu che passi per la via fermati e guarda se c'è un dolore paragonabile al mio, è la Vergine Maria che parla. Questa scritta si ritrova in sepolcri, in apparati di questo tipo, sempre casette costruite all'interno di una chiesa in Corsica, come se la Corsica avesse reiterato e conservato un'abitudine antica cinquecentesca. Le sofferenze di Cristo incoronato di spine, i gesti e il dolore delle piedonne e degli apostoli, i panneggi e le partiture architettoniche alleggiano, bianche e quasi sussurrate, sul particolarissimo e unico blu di Genova dello sfondo, dove l'indaco tinge il lino. La particolarità di questi teli è proprio infatti anche la tecnica con cui sono stati eseguiti. Intanto si tratta di teli di lino e questo è stato appurato tramite indagini scientifiche che sono state condotte nella prima tornata di studi, primo impegno di studi, che ha coinvolto Marzia Cataldi Gallo, che era la studiosa dei testi storica dell'arte che li ha scoperti e li ha studiati in modo approfondito. Queste indagini scientifiche hanno appunto rilevelato un telo di lino tinto con indaco e dipinto a biacca, un colore bianco quindi a base di una tempera. Quindi i pittori o gli artisti hanno lavorato utilizzando il bianco su un fondo blu per dare il lume, quindi per dare le parti in aggetto, con una tecnica quindi estremamente fascinosa. Dobbiamo anche immaginarli in un contesto completamente diverso da quelli in cui si trovano ora. Questi teli erano in una chiesa, illuminati ovviamente non con le luci a led come li stiamo proponendo ora in una sede museale, ma probabilmente dalle luci delle candele, quindi anche con un'apparenza anche estremamente suggestiva. I più antichi di questi 14 teli sono del primo Cinquecento, ma altri hanno una datazione successiva. Un gruppo, forse quello più monumentale, dovrebbe risalire al 1538. Un secondo gruppo, più o meno coevo e infine altri tre teli sicuramente aggiunti in epoca successiva, quindi probabilmente tardo-seicenteschi o settecenteschi. Perché la presenza di più mani su questo ciclo? Perché intanto erano teli su cui si è lavorato anche in tempi diversi e anche la superficie che doveva essere dipinta era così imponente per cui possiamo anche pensare a più mani che hanno lavorato. Di sicuro proprio Marzia Cataldi Gallo ha evidenziato due mani, una quella di Teramo Piaggio, un maestro di primo Cinquecento che tra l'altro era molto interessata alle incisioni di Dürer che ritornano ad esempio anche nella redazione di questi teli. Un altro nome che è stato fatto dagli studiosi è quello di Giovanni Cambiaso e altri maestri che comunque sono ancora in fase di scoprimento, di individuazione. Sul soffitto di questa stanza c'è un telo che appunto con il sole simbolo del Nuovo Testamento e la luna simbolo dell'Antico Testamento faceva un po' da cielo di stoffa a questo tipo di apparato. Presumiamo infatti che in un'ipotetica ricostruzione come stiamo cercando di fare in assenza completa di documenti che questo telo che rappresenta il cielo fosse collocato sopra il repositorio quindi sopra il piccolo altare che doveva conservare l'ostia non consacrata quindi la particola che rappresentava ovviamente il corpo di Cristo morto quindi è anche quella una posizione che presumiamo dovesse essere la più adatta per questo cielo. Le ricerche degli storici dell'arte della soprintendenza Franco Boggero e Alfonso Sista sugli antichi cartelami, apparati scenografici legati ai riti della settimana santa e sul loro recupero in Liguria e nel Mediterraneo dicono anche che opere analoghe ai teli della passione erano diffuse nelle chiese genovesi e Liguri. Da questa grande ricerca che ha avuto inizio con lo studio dei cartelami si è stato appurato come strutture analoghe fossero presenti ad esempio nella chiesa di Quezzi, nella chiesa di San Giovanni di Pre, nella chiesa del Carmine oppure ancora nella chiesa di Alassio e ovviamente non è rimasto più nulla di questi apparati effimeri, solo i teli della passione che abbiamo qui sono l'unica testimonianza di questa abitudine di allestire questi teatri sacri. Sono estremamente preziosi appunto perché rari e appunto perché nella dispersione totale che ha interessato molti di questi apparati, li averli ancora qui e poterci ancora ragionare e presentarli è sicuramente un'occasione importantissima.